Ed eccoci qui. Era il primo ottobre del 2019 quando ho iniziato questa nuova avventura su youtube. I tre anni di anzianità del canale sono passati da solo sette giorni, infatti registro questo video proprio il giorno 8 ottobre del 2022 e finalmente sono arrivata a quella soglia psicologica dei famosi 5000 iscritti. Un traguardo che devo essere sincero sono riuscito ad aggiungere solo grazie a voi che mi seguite. Ciao a tutti e bentornati sul canale Orisparmio, come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario IF ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove vado a parlare della mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore incallito. Video brevissimo oggi per festeggiare questo mio traguardo, un traguardo che è arrivato tre anni dopo la nascita del canale, nato con dei video che rassentavano il ridicolo a mio parere, con una qualità becera e che poi con il tempo, con il passare del tempo e la costanza spero di aver migliorato anche grazie ai tantissimi consigli e le tantissime critiche che mi sono state indirizzate. Ogni critica che mi è stata mossa, anche se fatta in maniera strafottente o poco cordiale, è sempre stata presa in considerazione. Un atteggiamento che fino a pochi anni fa non avrei avuto neanche il coraggio di affrontare, ero l'esatto contrario. Un anno che non è andato esattamente come mi ero immaginato e come avevo preventivato con tanti cambiamenti e tantissimi fallimenti, ma fra le tante cose sono riuscito a pubblicare il mio libro, a conseguire la certificazione IEF e a raggiungere i tanto sperati 5000 iscritti. Ancora grazie a voi in questo anno ho cercato di fare diverse prove sui contenuti, su quali pubblicare, come pubblicarli e quali scelte fare. In questa ottica ho lasciato perdere alcune collaborazioni, ridotto il numero di link affiliati nella descrizione dei miei video e questo mi ha permesso ancora di più di focalizzarmi, almeno spero, sui contenuti. Ho fatto diversi esperimenti passando dai 3 video a settimana ai 5 video a settimana e ora ne pubblico 2 settimana, ogni lunedì ed ogni venerdì. È sempre un processo in profonda e continua evoluzione. Come è cresciuto il canale, spero di essere anche io cresciuto come creatore di contenuti, che stia più attento e più ponderato e più vicino anche alle esigenze di chi mi segue. Un po' una specie di matrimonio fra il fare quello che mi piace e il fare quello che piace a voi. Ovviamente il processo di apprendimento non è finito, anzi è continuo e perenne, non finisce qui, ma giorno dopo giorno, sempre grazie a voi che mi seguite e supportate, cercherò di continuare a portare contenuti sempre più qualitativi e più importanti. La perfezione non la raggiungerò mai, ma se mi aiutate come avete fatto fino ad oggi, posso avere solo la strada in discesa. Ora mi aspetto i 7500 e poi i 10.000 da raggiungere come traguardo. Sono traguardi psicologici molto importanti, considerando che i miei contenuti non cavalcano mai l'onda delle notizie del momento, ma sono sempre calendarizzati e relativi a particolari argomenti che mi stanno a cuore. Non mi aspetto che questi numeri siano qualcosa di immediato, ma alla fine questo canale, oltre ad offrire quei pochi soldi di introito mensile, è una vera passione, una parte integrante di quello che sono io, di me stesso. Altrimenti non avrei continuato per tre anni con una crescita così lenta. Ringrazio voi tutti, nessuno escluso, e ringrazio anche tutti quelli che verranno dopo ad aggiungersi alla schiera di sostenitori di questo canale. Siete una famiglia. Bene, anche per oggi è tutto questo mini video ringraziamento e non mi resta solo che salutarvi e arrivederci a un nuovissimo video. A presto, ciao!